Le insidie ci sono sempre quando giochi, a prescindere dal valore dell'avversario. È come se questa squadra avesse chiuso il primo trimestre dell'anno e ce ne sono ancora altri due da giocare. E bisogna continuare a studiare, bisogna continuare ad impegnarsi, perché poi il professore arriva e ti interroga, se non sei preparato vai ad inficiare quanto di buono hai fatto nel primo trimestre. Ma la squadra si allena bene, la squadra sta sul pezzo, la squadra nei comportamenti è affidabile, io non ho ravvisato nessun tipo di calo di attenzione e di tensione per questa partita. Quindi c'è la consapevolezza che è difficile, perché è sempre difficile, perché il Bologna è comunque un avversario di valore che ha una qualità offensiva di tutto rispetto. E perché? Perché io penso che i calciatori vogliano dar seguito a quanto di buono fatto fino ad oggi. Se i ragazzi confermano quella che è stata la settimana di lavoro, sono sicuro che andremo a fare anche a Bologna una buonissima partita. La squadra su 12 partite ne ha 28, ne ha persi due, ne ha pareggiati due. La squadra ha il pieno dei voti, non possiamo nascondersi dietro dove deve migliorarsi. Cercando di battere se stessa. Non bisogna star lì a cullarsi troppo di una vittoria che è stata sì pesante, che è stata sì, che ha avuto un eco importante. Perché? Perché poi i tre punti in palio che ci sono domani hanno lo stesso valore di quelli di domenica scorsa. La motivazione è la classifica che abbiamo, la motivazione è il campionato che stiamo facendo. Io penso che nessuno ha voglia di far passi indietro. Quindi la motivazione è forte e te la dà la classifica. Ci stiamo, ci stiamo bene, ci vogliamo rimanere fino a quando ci sarà possibile, fino a quando lo meriteremo, fino a quando sapremo essere bravi a confermarci. La squadra, se ha ottenuto questi risultati, è stata anche perché è stata un po' leggera, cioè non ha avuto quelle pressioni che fanno male al calcio, dico io. E quindi io la lascerei leggera. Leggera nel senso del peso di una partita, perché poi i ragazzi qui si impegnano, ci danno dentro. Vi assicuro che l'impegno mentale ce l'hanno qui durante gli allenamenti. Quindi io ulteriori carichi alla squadra non gliene darei, la lascerei. Sbarazzina così com'è, perché è divertente se è sbarazzina. Se si riempie di tensione perde quell'aspetto ludico e ci divertiamo meno, compreso voi, io e voi.